Buongiorno, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come potete ben vedere, questa settimana abbiamo due cassette antispreco. Ragazzi, tutta la roba che vedrete, 3 pound, 3 sterline, tipo 4 euro, sono molto felice perché vi sto anche registrando un vlog, non so se uscirà prima questo, poi quel, non lo so. Ho andato a vedere un vlog dove sono andata alla ricerca di fragole per fare la confettura e ne ho trovate tantissime ragazzi, tantissime, sia scontate alla Lidl sia nelle cassette, quindi praticamente ho sterilizzato 3 vasetti ma credo di doverne sterilizzare di più. Comunque iniziamo subito. Allora, facciamo 1 e 1. Ho trovato, mamma mia, cioè ragazzi, solo questa vaschetta supera fortemente il prezzo di entrambe le box. Ci sta spitto qua il prezzo? No. Però guardate che sono belle. Le ho viste e pensavo di farci una confettura di ciliegie ma credo che queste le mangeremo. Adesso vedremo. Quindi una bella vaschetta di ciliegie da 400 grammi e le peschiamo perché le ho viste anche da qua, anche qui. Guardate che sono belle, queste le devo assaggiare. Altri 400 grammi si chiamano King Cherries e secondo me stavano nelle cassette perché sono un po' aperte e quindi le hanno messe. Poi peschiamo qua due lattughine romane, romane, cuori. Qua sta un po' ammuffita. Mi sembravano marce, invece no, sono quelle un pochettino violette. Comunque questa qualche foglia dovrà andare via. Però per il resto, queste sono comode adesso per le insalate. Poi, oh mamma, ma è un chilo! Un chilo di fragole! Mamma mia, che odore che fanno! Queste sono pronte per diventare confettura. E ci sta un chilo da qua. Ragazzi, io credo di averne presi altri due chili. Quindi già sto a quattro chili più un pochino che ne avevo. Un cinque chili credo di fragole. Poi, uno, due, tre pere. Che mi è appena venuta in mente la mia confettura di pere vaniglia. Buonissima. Andate a trovare il video da qualche parte. Credo sia nella playlist conserve per l'inverno o qualcosa del genere. Andatela perché provatela, fatela. Veramente una delle più buone che io abbia mai fatto. Tre pere, quindi. Poi, delle bananine piccoline, belle mature. Oddio. No, sì, sono comunque mature. Hanno già le macchiette nere. Quindi queste si devono o consumare subito o fare una bella torta. Anche da questo lato ci sono, sono piuttosto simili queste box, però poche importe, anzi meglio, più fragole. Queste qui sono un po' più durette, quindi queste possono anche, facciamo così, con quelle ci faccio la torta e queste ce le mangiamo. Poi, una retina con quattro arance medie, arance medie, quindi una spremuta ci scappa. Poi abbiamo un peperone di qua e un peperone di là, entrambi i verdi possiamo dire, questo è un pezzettino arancione, non si sa. Però comunque, due bei peperoni. Poi abbiamo un melograno di qua e un melograno di là, questo è un po' a una spacchetta, quindi si deve vedere. Voglio provare a fare il succo di melograno, è che non ho una centrifuga, è una cosa per fare i succhi, quindi dovrei tipo frullarli e poi passarli. Vedremo. Mi sa che ne ho un altro in frigo, quindi la quantità c'è per fare un succo. Questa ho un kiwi, un kiwetto, sfuso, carino. Due limoni, questa volta sono limoni, l'altro giorno ho detto limoni ma erano lime, però li abbiamo usati lo stesso nel tè, buonissimi. Quindi due piccoli limoni, non so più dove mettere la roba. Poi abbiamo una melenzanina che come al solito ho visto giorni migliori, non sta benissimo, però questa se ne va subito. Voglio fare, credo, una crema, tipo una di quelle salse da mettere sulle bruschette, l'avete capito? E per finire un bel mango maturo. Ha uno straondore il mango, comunque è bellissimo. E le vaschette sono vuote. Vi faccio vedere, c'è un casino qui in cucina al momento. Comunque tutta questa roba io l'ho pagata a 3 pound, quindi 4 euro. 800 grammi di ciliegie bellissime, 2 chili di fragole, un kiwi, una melenzana, 2 lattughe, 4 arance, 3 pere, 2 limoni, 2 peperoni, 2 melograni e qua ci sono 10 banane praticamente. E un mango, cioè meglio di così non poteva andare questa settimana. Quelle si trasformeranno così come per magia in confettura. Là ci sono già i vasetti pronti. Quelle si trasformeranno in una torta. Le ciliegie, vediamo, potrebbero anche loro trasformarsi in confettura. Vedremo il da farsi. E quelli in succo. E quelli forse in peperoni ripieni. Ossessione. E niente, per questo video è tutto. Mi avete detto che questi video sono rilassanti. Beh, ok, beh, venga. Non pensavo. E niente, mi fa sempre piacere ricevere i vostri commenti. Quindi commentate se vi va. Ovviamente iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti. Perché lo so che guardate, ma non siete iscritti. E non si fa. Questo non si fa. Quindi iscrivetevi. Sempre se vi va piacere. Nessuno vi punta un'arma contro, per carità. Noi ci vediamo. Alla prossima. Ciao!